Io prendi il bambino piccolino. Ma perché la prende? Ah, tuoi nipoti? Prendi la mia cugina, questo. Prendi la mia cugina. L'altro, i piccolini, prendi io. Io sono avanti di qua. E lei, la mia persona, sono lei. Anche a questo e a questo. Come l'è? Questo. Che portate? C'erano di camminare. Dopo che ho fatto la musica. Eravate vicino ai gonfiabili, giusto? Sì, vicino ai gonfiabili. Sì, sì, vicino. La mamma della bambina dietro da loro. La mamma un'altra persona. E la bambina, un metro, due, avanti da loro. Ah, quindi era davanti a voi. Sì. E lei dice che te ne hai detto cosa fai con la mia bambina? La bambina, la bambina così. Sì, 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 sì. E fai gira, fai gira. Fai gira, fai gira. Non sono di me andata. La mia cugina ha postato la bambina con le mani così. Quindi per uno che ha paura di voi, dice questi ce l'hanno davanti e ce la portano via. Mentre voi ve la siete spostata. Sì, sì, è capito. Questo sembrerebbe... Hai capito? In particolare, io ho defino un Marco, Grazie.